È ricchissimo il programma di eventi, aspettando il 6 settembre, organizzato dal comune Lampi e l'Aned per celebrare il 75esimo anniversario della liberazione di Prato dall'occupazione nazifascista, che culminerà la sera del 6 settembre con la tradizionale Marcia della Pace, che partirà alle 21 da Via 7 Marzo fino ad arrivare in Piazza dei Partigiani a Figline. Si comincia domani proprio da questo luogo simbolo della resistenza pratese. Alle 8.30 al monumento ai 29 Marti ripartirà Sentieri Partigiani, una camminata ai faggi di Iavello per ripercorrere le azioni della brigata Buricchi verso la liberazione di Prato. 75 anni fa il Comitato di Liberazione Nazionale, assieme agli alleati, stava liberando il nostro territorio, così come tutto il resto del nostro paese, dopo anni di dittatura. Questa conquista poi si è riversata nella nostra Costituzione, che è ancora la nostra stella polare. Martedì 3 settembre alle 21 al Museo della Deportazione e Resistenza ci sarà la proiezione del corto Madiba, scritto e diretto da Gabriele Cecconi. Sarà presente il parroco di Vico Faro, Don Massimiliano Biancalani. È la storia di due diversità che si incontrano, un italiano e un guineano, un anziano e un giovano, un bianco e un nero, e conoscendosi mettono insieme le loro conoscenze e la loro storia. Giovedì 5 settembre alle 21 lo stesso museo ospiterà la presentazione del libro Bella Ciao, la canzone della libertà, scritto dal musicista e cantautore Carlo Pestelli, con l'introduzione di Angela Riviello, presidente dell'AMPI provinciale di Prato. L'inno della pace che noi cercheremo di scandagliare dalla sua nascita fino ad oggi, scoprire come mai è diventato un inno cantato in tutto il mondo. E poi ci sarà una piccola sorpresa perché presenteremo il coro che stiamo facendo nascere, coro di Canti Ribelli, che è un altro appendice di AMPI perché appunto i nostri linguaggi vogliono essere linguaggi rivolti veramente a tutti.